Questo è il tuo primissimo ruolo da protagonista. Come ti sei approcciato, che sfida è stata e come sei arrivato ad ottenere questo ruolo? È stata una sfida entusiasmante, sia nel periodo in cui si facevano i provini per prendere il ruolo, sia durante le riprese del film, ma anche nella preparazione delle riprese del film. È stato un viaggio straordinario che mi ha dato la possibilità di conoscere le persone che mi hanno aperto il loro cuore e che mi hanno dato la possibilità di conoscere Franco non solo come un artista, ma soprattutto come un amico, come un grande essere umano. Il film parla proprio di questo, parla del suo lato umano, di quello che non è mai stato raccontato, perché poi spesso si tende a raccontare sempre le cose negative di qualcuno. Invece poi, in realtà, spero che questo film possa far capire che Franco, in realtà, oltre a essere un grande autore, un grande poeta, era un grande amico e un grande essere umano. Senti, tante sono le canzoni che lui ha scritto. C'è una canzone che ami particolarmente di Franco e perché? Sì, la mia canzone preferita si intitola Semmo gente de Borgata e ci sono legato in una maniera particolare perché prima che girassi il film, ho avuto la possibilità di andare a vedere un concerto organizzato da i suoi migliori amici musicisti che hanno suonato con lui per gli ultimi 30 anni della sua carriera e c'erano i fan di Franco, c'era la famiglia di Franco che è un fandom comunque importante, grande, che Franco comunque si è tenuto nonostante non ci sia da tanti anni. Mi sono emozionato perché comunque ho saputo da poco la notizia che sarei stato io a interpretare Franco, mi sono girato e ho visto tutte queste persone di età diverse cantare il ritornello di questa canzone che è un ritornello molto romano, ricorda molto gli stornelli romani di un tempo ai quali io sono molto legato per i miei motivi personali. Quindi in realtà mi ha emozionato tanto perché mi sono sentito abbracciato da una famiglia che si fidava del lavoro che avrei dovuto svolgere e spero di non aver deluso le loro aspettative. Tu sei anche un cantante, hai notato delle similitudini tra il percorso di Franco e quello magari tuo perché all'inizio anche lui ha avuto comunque difficoltà. C'è una frase nel film che mi ha molto colpito quando l'amico gli dice la vita non è fatta per i poeti perché lui in primis era un poeta. Sì, diciamo che sicuramente il fatto che Franco fosse un cantautore mi ha dato la possibilità di immedesimarmi meglio all'interno del personaggio perché mi ha dato la possibilità comunque di comprendere appieno anche le delusioni e la sofferenza che si può provare nel momento in cui lavori tutta la vita per raggiungere un risultato e poi vieni sbattuto in carcere senza avere neanche le responsabilità di quello che ti viene accusato di aver fatto. Quindi sicuramente quella è stata una roba che mi ha portato a empatizzare in una maniera particolare con Franco e che probabilmente ha fatto la differenza anche a livello della mia personale interpretazione. Però devo dire che insomma ne nascessero cantavatori come Franco. Senti, la recitazione è un'arte che scorre nelle tue vene e in generale in quelle della tua famiglia. C'è qualche consiglio che ti ha dato tuo papà? È vero che non gli avevi detto niente, insomma, che avresti fatto il provino? Sì, sì, no, no, no. Inizialmente insomma i provini poi sono molto lunghi perché poi soprattutto per questi personaggi giustamente sono dei provini che durano a volte anche mesi, selezioni lunghissime. No, non gli avevo detto inizialmente. Poi alla fine quando ho avuto la notizia mi ha fatto piacere comunicarlo ai miei genitori e loro erano felici. Quindi insomma questo è il primo passo spero per un tragitto lungo e che mi porti ad avere la possibilità di raccontare storie belle come quelle che ho avuto la possibilità di raccontare in questa circostanza. Ultimissima domanda, quindi ti piacerebbe continuare ad intraprendere questo percorso, quello della recitazione parallelamente a quello di cantante? Assolutamente sì, sennò stiamo a pettinare le bambole. Grazie mille, grazie Leo.